La storia consecutiva, forse la più sofferta, che cosa dice? No, penso, la più sofferta no, penso che abbiamo fatto una grandissima partita all'inizio. Nel primo tempo ci è mancato un po' la cattiveria sottoporta e poi nel secondo tempo siamo riusciti a fare gol e questo alla fine è quello che conta. Un messaggio soprattutto a livello di carattere che arriva da questa serata? Sì, penso che il carattere si è visto già da qualche partita. La squadra sta lavorando bene, stiamo lavorando bene in settimana e poi alla fine si portano i frutti a casa, quello che si raccoglie e che ti lavora la settimana. E pensando alla partita di Nelada con Chievo, la prima cosa che ti viene in mente è che Pioli ha capovolto questa squadra da così a così. Questo non si può dire nulla, era la prima partita all'anno, era un po' tutto confusso a inizio anno. Adesso siamo tranquilli, abbiamo il Miser che sta lavorando tantissimo sulla testa di ognuno e ci fa fare bene ogni partita, è quello che conta. Non si ferma più l'Inter, non si ferma più neanche i Cardi, scomentiamo qui su Sky che il 2017 ti vedrà protagonista anche con l'Argentina. Vediamo, io faccio il mio lavoro come ho detto sempre, poi il Città nazionale è quello che decide, se mi vuole chiamare io sono pronto. L'ultima domanda, se ti arrivasse un'offerta irrinunciabile dalla Cina come ti regoleresti? Questo l'ho detto già, all'inizio anno ho fatto un rinnovo qua e sono contento di restare con questa maglia, poi per andare in Cina c'è sempre tempo a fine carriera.